Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video questo è tipo il terzo video che registro perchè oggi sono in vera di video e ho un po' di tempo per registrarli quindi è il terzo video in cui mi vedete identica, va bene, ciao tesori sono chiara, sono sempre uguale ma si, è sempre la stessa giornata, è sempre lo stesso pomeriggio semplicemente appunto Lara sta fuori e quindi io posso registrare, yeah, posso lavorare bene, allora ho trovato questo tag troppo carino visto da Stefania, Stefania si chiama mi pare Stefania che ogni tanto seguo però io ho una memoria pessima praticamente ho fatto la foto all'immagine senza senza il cioè ci sono le domande, ho fatto la foto ma c'è soltanto l'inizio del non c'è il nome insomma vabbè speriamo che dopo c'è, no non c'è cazzarola, vabbè ve lo lascio qua sotto il nome perchè non mi ricordo comunque mi pare Stefania, Stefi Stefania, non lo so, comunque insomma è simpaticissima quindi vi lascio qua sotto il suo link allora, ecco il tag allora immagina di essere stata una festa hai bevuto fino a star male tanto da vomitare tutta la notte fatti un selfie che renda perfettamente l'idea in quel momento nel cellulare è lo spazio per una foto soltanto e devi scattarti un selfie per mandarla alla persona sulla quale vuoi fare colpo come te come te lo fai? cioè come te come te lo fai? non si può fare? in qualche modo ognuno usi le sue armi non saranno non saranno bellissime però ci stanno sei in una di quelle giornate in cui ti senti particolarmente sexy fatti un selfie che mostri tutta la tua sexitude così la guarderai in quelle giornate in cui invece ti senti bruttissimo cioè tipo ah ah poi ti rendi conto che non fai altro che farti selfie ma non vuoi smettere però non vuoi neanche che gli altri lo pensino quindi ti fai un selfie facendo sembrare che qualcun altro ti abbia scattato la foto mentre non lo sapevi no no non farmi foto ah no dove si preme ah non farmi foto uh no ti prego non farmi foto bene non farmi foto ah birichino non farmi foto una pazza una pazza 5 hai voglia di giocare e decidi di farti una selfie con la classica faccia da bimbo minchia allora adesso va di moda questa tipo che si mettono tutte le cose davanti però non lo so però i miei tempi erano tipo ahahah o tipo così con le labbra bimbo minchia però non sono in bagno dovrei stare in bagno per fare una selfie da bimbo minchia poi che poi i miei tempi l'ho fatta anche io ai miei tempi come sono vecchia sono madre ma non sono così vecchia giuro un hacker entra nel tuo cellulare rubandoti tutte le foto tu sei estremamente preoccupato perché sai di esserti fatto di selfie compromettenti di che selfie si tratta probabilmente sono di quei selfie in cui che mi faccio per specchiarmi e quindi tipo potrebbe essere tipo così perché mi sto controllando magari il piercing sì il piercing le caccole no sto scherzando magari mi sto controllando il piercing e quindi faccio così e scatto e oh cazzo e magari mi rimane perché mi rimane magari la foto del naso oppure mi sto controllando le labbra i baffetti e quindi mi sto controllando quindi potrebbe uscire tipo una foto così e cioè insomma ce ne stanno tante o alcune volte mi faccio delle foto per vedermi tipo come mi stanno i capelli dietro e magari stanno tutti aggrovegliati quindi probabilmente sarebbe quello poi visto l'ultimo episodio devi ricostruirti la reputazione quindi fatti un selfie con la faccia più pucciosa e tenera d'angelica possibile allora pucciosa allora con la faccia più pucciosa più pucciosa tipo quanto sono pucciosa oppure la faccia angelica ooo mi maria vedi sono un angeletto ma chi c'è crede a questo punto tu vuoi accertarti di non essere l'unico cretino a farsi tutti questi selfie quindi tagga chi vuole e la speranza è che anche gli altri si facciano i selfie più assurdi ragazzi siete tutte taggate tutte dalla prima all'ultima tutti 55.000 a proposito grazie tutti 55.000 siete tutte taggate quindi sprecatevi mi metto pure l'occhiale per vedervi bene fatelo perché non è che soltanto io devo ammettere che effettivamente tutti i selfie anzi vi faccio vedere pure una cosa questa è la mia macchinetta fotografica queste sono solo selfie cioè sono tutti uguali l'ultimo selfie che ho fatto è uguale sono tutta io clicco uno so io solo che sono tutti selfie sono tutti uguali quindi questo tag faceva veramente per me ecco perché l'ho fatto quindi siete tutte taggate tutte comunque spero che questo mini video vi sia piaciuto per tenervi compagnia io vi mando veramente un grosso grosso bacio ditemi pure voi che mi fate selfie perché questo problema non è solo mio ciao sono Chiara e sono 7 minuti che non mi faccio i selfie mi devo fare un selfie mi devo fare un selfie me lo faccio con voi bene stronzate a parte io vi mando un grosso grosso bacio sto facendo quella swag non solo swag perché faccio swag bene sapete quelle fighissime che fanno tipo bene io vi mando veramente un grosso grosso bacio e sto parlando come quelle bene comunque che prendo cose da sopra non so perché ma lo facevo quando ero un pochino più piccolo ho sempre parlato così perché mi sono sempre vista soltanto cose americane e quindi mi sono sempre vista quelle così vabbè è un amore incondizionato comunque io vi mando un grosso grosso bacio per esempio ci vediamo al prossimo video grazie per essere state con me qui aspettate che c'è il segno ecco grazie per essere state qui con me fino alla fine e vi mando un grosso grosso bacio fatemi sapere soprattutto qua sotto nei commenti qual è il selfie più strano che vi fareste o nel posto più strano che vi siete fatte e quindi sì fatemi sapere tutte le cose succulente voglio sapere tutto ai commenti cioè ci vediamo nei commenti perché io leggo tutti veramente ciao ah ricordate di mettere un bel mi piace se ti fa e sto chiarizzando su tutti i social perché instagram, twitter, facebook ci sono tutti i link qua sotto e nel primo commento quindi credo che siano carini quindi viene da vedere perché sono sicura che non sarai ma sto ancora registrando sì sono sicura che insomma ti potrebbero piacere quindi ci vediamo al prossimo video e con sempre metti mi piace ciao ciao